Il Catania torna in campo, non quello del Massimino per il quale occorrerà appazientare ancora tre settimane, ma quello di Torre del Grifo Village, dove parte oggi l'operazione Serie B dopo una breve tre giorni di pausa post-campionato regolare. I rossazzurri e gli ordini di Cristiano Lucarelli iniziano a proiettarsi verso il prossimo impegno, la doppia sfida valida per i quarti di finale play-off è ancora lontana, ma non si vuole lasciare nulla al caso e l'obiettivo, priorità principale, è quello di arrivare psicologicamente e atleticamente pronti all'appuntamento. Gli etnei non vogliono perdere la confidenza col rettangolo di gioco, ragion per cui è già stata fissata per sabato alle ore 17 una gara amichevole contro una delle protagoniste del campionato di Serie D, l'Igea Virtus di Giuseppe Raffaele, ancora in corsa per un posto tra i professionisti, dato che settimana prossima affronterà i play-off regionali di quarta serie. Un test utile sotto ogni punto di vista per i rossazzurri, che potranno dunque sperimentare soluzioni nuove e verificare le condizioni di alcuni uomini titolari e panchinari. Se per il Catania è ancora presto parlare di impegno play-off, stessa cosa non si può dire della Sicura Leonzio. L'avventura dei lentinesi agli spareggi inizia domani alle ore 20, al San Vito Gigi Marulla contro il Cosenza, squadra che si è piazzata al quinto posto nel girone C. I bianconeri di Emo Diana non conservano buoni ricordi contro il rosso-blu di Braglia. I due precedenti stagione parlano di un pari a rete inviolate ed una sconfitta, quest'ultima datata un mese fa. All'Angelin Nobile per 1-0 decise un gol nel primo tempo del terzino Tommaso Dorazio. All'Angelin Nobile per 1-0 decise un gol nel primo tempo del terzo-blu di Braglia. All'Angelin Nobile per 1-0 decise un gol nel primo tempo del terzo-blu di Braglia.